Sì, sono Valentina da Quartus, sono modella e faccio unghie. Io sono Tore, ho voglia di codare, c'è un F10 squartarato che cammina a scoppio. More, ti piace quando ti cucco così? No, ma ballati in lover. Con Tore siamo assieme da un mozzo ai tempi delle primissime day cube e l'ho conosciuto sbroccando un giallo azzurro. Quando ero più pischellina, Tore mi portava a fumarci il porro alla marinella. Nenghia, ha vortici, vero amore? E secondo te me lo ricorda, spero un po'. Amica, che poi abbiamo anche muri i gatto. More, la muttana pura esce. Pien di gari, ozzolta. Da quando lo conosco è fisso a mosso, quindi al giorno codiamo più volte... Un pazzo. L'uomo amm...